Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi risponderemo a una domanda super frequente, ossia il pump serve per l'ipertrofia, perché so che tutti quanti voi amate, anche io, tutti quanti noi amiamo quella sensazione di pompaggio muscolare, anche estremo, e quando lo sentiamo in allenamento è come se fosse mancato qualcosa, quindi manca qualcosa, è giusto o sbagliato, non ho stimolato abbastanza il muscolo, cioè anche se sono progredito sui carichi, effettivamente la stimolazione non è stata sufficiente, e la risposta breve è sì, il pump serve per l'ipertrofia, cercheremo di vedere perché, e lo vedremo sotto tre principali aspetti, il primo aspetto quello della connessione mente-muscolo, il secondo aspetto quello stimolatorio, e il terzo aspetto quello di recupero, ma prima di andare ricordatevi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video, e ragazzi iscrivendovi ci date veramente una grandissima mano, quindi mi raccomando spolliciate. Allora, andiamo al primo profilo, quello della connessione mente-muscolo. Avere un distretto in pump è un qualcosa che permette di attivare meglio il distretto target. Ora, dedicherò un video, se vi interessa la connessione mente-muscolo, se vi interessa scrivetelo qua sotto nei commenti, però generalmente l'esempio che posso fare è questo, vado su una panca piana, quindi un esercizio a grande sinergia muscolare, un compound, un multiarticolare, come vuoi chiamarlo, vado sulla panca piana e non ho per niente pump al petto, e inizio a lavorare. Ora, logicamente ci sarà sempre un'attivazione maggioritaria del gran pettorare rispetto a spalle, rispetto a tricipiti, a distretti sinergici e agonisti. Però, però, attenzione, nel momento in cui il petto sarà in pump, questa attivazione, sempre maggioritaria, sarà in percentuale un po' superiore. Perché? Perché mi ci riesco ad agganciare meglio, lo percepisco meglio. E questo è quello che potete fare, cioè se avete, io faccio l'esempio del petto perché si sente la zucca da latte, si dice, la sisa pesante, voi subito a livello di cervello riuscite a sentirla e percepirla. Ci sono invece quegli allenamenti, non so se vi è mai capitato, in cui non sentite per niente pump e arrivate e dite, cioè io in questo momento potrei aver allenato qualsiasi distretto, non ho assolutamente percezione di niente, cioè così non so che cosa ho allenato, cioè non sento il distretto che ho allenato effettivamente stimolato, eccetera. Non ho pump muscolare, soprattutto succede in fasi di cut. Quindi un buon pompaggio muscolare ci permette di massimizzare la connessione di mente muscolo e quindi di stimolare maggiormente il distretto target. E quindi questo ha un profilo interessante. Secondo profilo, come detto, è quello stimolatorio. Questo è altrettanto importante. Il profilo stimolatorio sia il pump di per sé. È qualcosa che stimola per l'ipertrofia? Beh, bisogna capire che cos'è il pump. In realtà sul pump abbiamo generalmente una situazione di iperemia locale, quindi più sangue, più nutrienti che arrivano in loco, nel muscolo. Ma in realtà quando si parla di pump e di estremizzazione di pump si parla di tutta quella cascata di effetti che normalmente vengono raggruppati nel concetto di stress metabolico. Ora, tanti tanti anni fa, diciamo dieci anni fa, sono tanti, la mia percezione sono tanti, c'è stata questa esplosione in ricerca e letteratura di questi meccanismi di adattamento, quindi la tripartizione dei meccanismi di adattamento, tensione meccanica, stress metabolico, danno muscolare, che si basava su tanta letteratura precedente, logicamente non è che è uscita così a caso. E tanti meccanismi come cascata infiammatoria, accumulo di metaboliti, eccetera, che riguardavano questo stress metabolico, quindi accumulo degli ioni HPU, eccetera, eccetera. Ecco, tanti di questi meccanismi hanno visto e hanno testimoniato una correlazione a livello ipertrofico in tanta letteratura e in tanti studi, tant'è che hanno identificato proprio un meccanismo di adattamento tale come lo stress metabolico. Ora, fermi, molto importante, perché ultimamente tanti tecnici e ricercatori, ma soprattutto tecnici, non tanto ricercatori, stanno un po' battibeccando su questo ruolo dello stress metabolico rispetto al dato muscolare, alla tensione meccanica, ma in generale il ruolo dei meccanismi della trepartizione, sostanzialmente dicendo che non hanno un ruolo così importante e rilevante. Che cosa stanno dicendo realmente? Perché poi è un po' come col passaparola, cioè una storia inizia in un modo, poi pian piano c'è un passaparola, passaparola, passaparola e finisce con una storia completamente differente. Quello che normalmente si sta dicendo adesso, in questo momento, perché i dati della letteratura sono sempre gli stessi, non ci sono dati che hanno portato a cambiare di idea, ma quello che si sta dicendo adesso è, attenzione ragazzi, perché con questa tripartizione, quindi tensione meccanica, danno muscolare e stress metabolico, in realtà non è così paritaria. La tensione meccanica ha un ruolo importante, un ruolo segnalatorio molto importante, in realtà il danno muscolare ha un profilo di impatto, che poi magari analizzeremo in altri video, e lo stress metabolico ha un ruolo semplicemente sinergico, quindi enfatizza quello che è un'attivazione, un adattamento che deve partire però dalla creazione di una tensione meccanica. Quindi di per sé non è che lo stress metabolico crea ipertrofia, come di per sé non è che il pump muscolare crea ipertrofia, però sta di fatto che è un qualcosa che permette di enfatizzare tanto tanti processi ipertrofici, quindi è qualcosa che da un punto di vista stimolatorio ci aiuta. Da un punto di vista osservazionale, perché ricordiamo sempre che quando noi parliamo, in generale cerchiamo di applicare il metodo scientifico, si deve partire sempre dall'osservazione e la ricerca, il metodo scientifico, finisce sempre anche nell'osservazione. Quindi qual è l'osservazione? Ci sono molte persone che si allenano soltanto a pompaggio muscolare, quindi creano comunque un certo tipo di adattamento, crescono e non andiamo a dire ma quelli si bombano perché si bombavano anche prima, quindi cambiano stile, passano da stili molto più hard, stili molto più di ricerca del carico a stili molto più di pompaggio puro e crescono di più. Quindi crescono di più, vuol dire che c'è un qualcosa del pump muscolare che permette di continuare la crescita, di aumentare la crescita. Attenzione anche a un discorso, che il pump muscolare e lo stress metabolico è normalmente enfatizzato su alte ripetizioni, quindi su impostazioni di allenamento che portano un forte consumo energetico, un forte consumo di glicogeno muscolare quindi ha una sovraattivazione della glicogeno sintasi e ha una maggior sensibilità insulinica. Quindi automaticamente un tipo di allenamento orientato al pompaggio muscolare porta a aumentare possibilmente quella che è la capacità di storage di scorta delle proprie riserve di glicogeno muscolare. Quindi un muscolo che magari dà 200 millimoli per chilo di glicogeno all'interno del muscolo ti passa a 220-230. Quindi anche là, capite come dire, il pump di per sé aiuta SNI, nel senso che ha diversi effetti in parte, però tutti gli allenamenti che mi portano il pump sono anche allenamenti che mi portano tutta una serie di effetti. Quindi se voglio vederla così, tutto quello che mi causa pump mi dà benefici anche su un altro aspetto, mi porta ad avere generalmente più glicogeno muscolare, che vuol dire che sul palco sarò più grosso, perché il muscolo è logicamente più grosso. Ma questa è ovviamente una parentesi, non è direttamente correlato al pump, però c'è un principio comune derivante dalla tipologia di allenamento che porta al pompaggio muscolare. Ora, ci ho detto l'ultimo profilo, che è forse il più importante, quello dove effettivamente tutto quello che noi riconosciamo come stress metabolico ha un impatto maggiore sull'ipertorfia, che è il profilo di recupero. Ossia, nel momento in cui un miocita, una cellula muscolare, un distretto muscolare è errorato di sangue e di nutrienti, quindi anche di acqua, allora questo distretto muscolare presenta un profilo che è più anabolico. Ricordate sempre che una cellula idratata, una cellula idratata è una cellula anabolica, ok? Quindi pump muscolare permette di avere generalmente più anabolismo. Ossia, quando è che c'è l'anabolismo? Quando ci alleniamo? No. Quando ci alleniamo c'è una situazione tendenzialmente catabolica del muscolo muscolare, cioè del distretto muscolare. No, noi stiamo distruggendo. No, l'anabolismo c'è dopo. Infatti, quando io finisco il mio allenamento con tanto pump muscolare, io ho un tessuto muscolare, un distretto muscolare che, appena finisco, sta in una situazione ottimale per recuperare. Faccio un esempio, ci arriva tanto sangue, ci arrivano tanti nutrienti, ottimo, ma è anche vero che l'insulina che arriverà derivante da un pasto o dall'intra workout che ho utilizzato, o se ne usa da un punto di vista esogeno, eccetera, andrà a finire preferenzialmente nel tessuto muscolare. Quindi avrà un'attività preferenziale, più specifica, non del tutto, sul tessuto muscolare, perché io sostanzialmente ci schiaffo tutto là. La creatina che utilizzo viene direzionata sul tessuto muscolare, quindi ci sono tutta questa serie di effetti, tra virgolette, collaterali, che mi permettono di avere un profilo di recupero muscolare migliore. Ed è importante perché si ragiona sempre tanto sullo stimolo, che va benissimo, perché dallo stimolo partono tante cose, però si dovrebbe ragionare ancora di più sul profilo di recupero. Perché se io stimolo 10, ma recupero 5, crescerò soltanto bene che vada di 5. Quindi il pump permette di enfatizzare il recupero. Capiamoci, non ha un ruolo centrale, non è che se andate in sala e non avete pump, è un allenamento buttato, mannaggia. Però sicuramente se una situazione di non pompaggio muscolare tende a procrastinarsi per tanto tempo, bisogna indagare la causa, perché c'è un problema che deve essere risolto. Ricordate il mio motto, risolvi il cazzo di problema. Se c'è un problema, risolvi il cazzo di problema. Quindi c'è un problema che deve essere risolto, dobbiamo affrontarlo e ragionare sul motivo per cui non possiamo avere pump. Che motivi ci possono essere per cui non abbiamo pump? Diversi. Se mi seguite su Instagram, li sapete perché ci ho dedicato dei reel, quindi scrivetemelo qua sotto nei commenti se già li sapete. E ricordatevi di seguirmi su Instagram www.dudubico.lm perché sennò vi prendete un sacco, un sacco di video. Ragazzi questo è tutto, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Qualsiasi domanda, come sempre, qua sotto sarò ben liato di rispondere e noi ci vediamo nel prossimo video.